Grazie Presidente, soltanto per dire che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà a questo ordine del giorno perché abbiamo dato una valutazione che secondo noi non è scritta nella maniera corretta. Istituzione è un servizio di auto elettriche storiche in grado di tutelare sia il benessere dei cavalli. Che vuol dire? Se è un'auto elettrica, è elettrica. Avvisiamo chi sta seguendo i lavori che c'è un ordine del giorno successivo del Presidente Diaco, firmato anche dal Consigliere Ferrara e anche da me, che è proprio sulle botticelle elettriche e a quello ovviamente daremo il parere favorevole. Grazie Presidente.